Situazione complicata ma sotto controllo nelle scuole e negli asili teramani. Il Comune di Teramo denuncia due serie criticità che stanno mettendo in difficoltà il sistema scolastico. La lenta tempistica dei tamponi a studenti e personale e gli organici monchi. È necessario dare delle risposte concrete, immediate, quotidiane a quelli che sono i problemi che si vivono nelle nostre scuole perché in qualche modo non possiamo andare a intaccare quello che è un servizio primario che dobbiamo continuare a rendere nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda i servizi educativi, l'amministrazione comunale che gestisce direttamente questi servizi ha ritenuto doveroso intervenire per dare delle risposte concrete di assistenza sociale a quelle che sono in qualche modo le difficoltà di questo momento. Criticità dunque che diventano macigni per le famiglie e così il Comune di Teramo vara due misure urgenti a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà. Da oggi saranno scomputate, non calcolate le giornate di assenza dovute all'emergenza Covid e quindi laddove un pediatra dovesse ritenere di mandare una bambina o un bambino a tampone i giorni di assenza fino allo svolgimento del tampone e fino alla piena guarigione del bambino non saranno calcolati nel pagamento della retta ma saranno piuttosto scomputati dalla stessa. Allo stesso modo come amministrazione stiamo scrivendo a 50 famiglie sulle 170 che usufruiscono del servizio educativo, quindi parliamo del 33%, per dar loro un voucher, uno sconto che arriverà fino ai 250 euro per le famiglie sotto agli 8.000 euro di Ise e che arriverà fino ai 100 euro per le famiglie sotto ai 10.000 euro di Ise e quindi si tratterà di uno sconto che andrà in qualche modo a riguardare 4 mensilità per le fasce meno abbienti fino alle 2 mensilità per invece coloro che sono al di sotto del reddito dei 10.000 di Ise. Intanto la regione Abruzzo si sta orientando per estendere la didattica a distanza alle superiori dal 75% al 100%. Il sindaco D'Alberto in un incontro con il governatore Marsiglio e l'assessore regionale Verì chiede di accelerare e velocizzare i protocolli sanitari. Chiudere le scuole sarebbe una resa. Va assolutamente ridefinito il protocollo, soprattutto per quanto riguarda il controllo a monte da parte delle istituzioni scolastiche ma soprattutto dell'anello territoriale, dei medici di base e dei pediatri. È necessario che ci sia un filtro, un filtro efficace altrimenti tutto si riverbera su ASL e Siesp con l'effetto di mandare in affanno le strutture e di portare il sistema alla paralisi.